Dopo la promozione in Serie B mette le prime basi per la nuova stagione il calcio Trento femminile. Nella sede DAO confermata la partnership col colosso dei supermercati alla presenza di Mauro Giacca. Quest'anno le due anime del Trento dovranno dividersi il Bria Masco. La squadra l'anno prossimo giocherà al Bria Masco alternandosi col Trento maschile. Il Bria Masco è di tutti, è giusto che anche loro abbiano lo suo spazio, anzi ne siamo fieri, le accogliamo e diamo la disponibilità su un campo del comune che comunque sia a disposizione insieme a noi. Collaboriamo su altre parti perché penso che sia giusto collaborare, noi abbiamo già un'esperienza fatta da quest'anno in campionati nazionali, loro all'inizio l'ingresso però ci siamo per condividere con loro determinate tipologie e il rapporto deve essere quel rapporto giusto dove il pallone deve unirsi in questo caso proprio sia maschio sia femminile proprio perché c'è una palla di mezzo. La partita giocata al Bria Masco il primo maggio con la tribuna piena, lo scontro diretto in notturna col Vicenza per il primo posto a fine maggio, la vittoria col Brixen che il 5 giugno ha deciso la stagione. Hanno lasciato emozioni forti e certezze le ultime uscite del Trento Calcio Femminile che assieme alla promozione in Serie B ha saputo conquistare anche un pubblico affezionato, tanto da convincere Dao a continuare anche nella prossima stagione in Serie B il rapporto con la società ed il cammino di crescita evidente dal punto di vista sportivo, dei numeri, dell'interesse e della qualità. Una comunanza di intenti sancita nella sede Dao di La Vis con uno scambio di omaggi tra cui la preziosissima maglia gialla della promozione autografata dalle ragazze, una delle pochissime rimaste visto che quelle originali sono andate letteralmente a Ruba, sparite nel corso della festa promozione. Abbiamo dato un contributo, penso, significativo a questa impresa sostenendo un'attività delle ragazze, un movimento che mi pare in crescita e quindi meritevole di essere accompagnato nel suo sviluppo. Ma non sarà facile il salto in B, il primo anno servirà ad acclimatarsi, anche se la speranza è che qualcun altro oltre a Dao si faccia avanti a mettere il suo marchio su questo volto pulito dello sport. La nostra più principale obiettivo che sarebbe quello della promozione, come ben potete immaginare, è la salvezza. Quindi una salvezza per noi sarebbe tanto e servirebbe come presupposto per fissare degli ulteriori obiettivi in prospettiva del Trento Calcio Femminile.